Roberto Salis, Zoltan Kovac, è il portavoce del governo ungherese. Guardi cosa ha detto oggi. Ha detto che Ilaria Salis è venuta in Ungheria con i suoi due compagni antifascisti con l'obiettivo di picchiare persone innocenti nelle strade di Budapest. I media italiani hanno fatto il loro meglio per dipingere Salis come una martire. Nessun gruppo di estrema sinistra dovrebbe vedere l'Ungheria come una specie di ring. Di estrema sinistra, e quindi le altre estremità forse sono in qualche modo consentite. Nessuna richiesta da parte del governo italiano al governo ungherese renderà più semplice difendere la causa di Salis perché il governo non ha alcun controllo sui tribunali. Che ha approvato quando l'ha sentito? Questa è una comunicazione che è già venuta il 30 gennaio. Sono sempre di questo tono, interferiscono assolutamente con la giustizia ungherese perché dicono qui che praticamente hanno già deciso cosa ha fatto mio figlio e cosa non ha fatto. e poi rimbalzano questa cosa contro il paese italiano dicendo che siamo noi a interferire con la loro giustizia. Cosa le ha detto Mattarella? Mattarella mi ha detto che era molto colpito dal caso, che si aspettava che per me e la mia famiglia ci fosse una Pasqua diversa da quella che poi abbiamo avuto e ci ha detto che farà tutto quello che è in suo potere per dare una mano a Ilaria ma ovviamente operativamente tutto deve avvenire attraverso il governo. Questo gliel'ha detto Mattarella? Sì. Come l'ha interpretato? L'ho interpretato come un segnale che bisogna che il governo forse agisca. Bella Costa, lei che pensa di questa vicenda? Penso che sia intanto orribile e dolorosissima da un punto di vista umano delle relazioni e poi penso che sia sempre molto delicato ovviamente quando si mescolano terreni e questioni intergiudiziari e invece qualcosa che ha a che fare con la vita delle persone. Non riesco a conciliare anche questa accusa peraltro molto generica con lo stato in cui viene trattata Ilaria Salis, l'esibizione che viene fatta del suo essere letteralmente in catena. Però appunto è come se ci fosse costantemente una commissione tra quelli che devono essere i sacrosanti percorsi della giustizia e quelli che invece sono l'opportunità dei comportamenti. Noi parleremo di tante cose, sarete nostri ospiti in un confronto anche più tardi entrambi. Ora avremo una intervista con Pierluigi Bersani che a sua volta si confronterà. Domani c'è un fatto molto importante, sono state richieste le dimissioni di Daniela Santanchè in una vicenda che arriva a lambire anche la famiglia Larussa. Questo che idea si è fatta a Lella Costa? Intanto da milanese, visto che Daniela Santanchè e Ignazio Larussa hanno vissuto sempre a Milano, è una di quelle cose che mi toccano proprio, mi mettono a disagio. Dall'altra penso che al di là appunto degli intergiudiziari ci sarebbe una pratica che è quella dell'autosospensione, delle autodimissioni, del dire benissimo. Perché? Sei innocente? Ma non si tratta di innocenza, si tratta di etica, si tratta di buonsenso, si tratta di decoro e di rispetto delle istituzioni. Secondo me sarebbe proprio necessario. Restate con noi, ora ne parliamo con Pierluigi Benzani, la prima arriva Luca Paolo.